La sentenza di condanna le mette all'intero vertice mafioso, dobbiamo rompergli le corda, dice il capo dei capi Totorina. Salvo Lima, eurodeputato, logotenente di Andreotti in Sicilia, viene ucciso quella mattina in un agguato imperfetto stile mafioso. È in macchina con altri due collaboratori, una moto li affianca, spara per farli fermare. Loro scendono, tentano la fuga ma Salvo Lima viene raggiunto e ucciso. C'è addirittura il colpo di grazia sparato da uno dei killer, un colpo di grazia alla nuca. Non è un delitto come gli altri, non è neanche uno dei vari delitti eccellenti che contraddistinguono quella paurosa stagione di sangue in Sicilia. È proprio il delitto che segna l'inizio della guerra di Cosa Nostra allo Stato e che culminerà con le stragi del 92 e del 93. Lima muore perché si è rotto quel patto tra mafia e politica. Un patto che, da quanto hanno appurato le indagini, i processi, avrebbe dovuto portare all'annullamento degli ergastoli per il maxiprocesso. Proprio quel maxiprocesso di Falcone e Borsellino che aveva messo in crisi la mafia, l'aveva messa probabilmente in ginocchio. Del caso Lima si parlerà poi molto anche dopo i processi, dopo la fine di quelle indagini. Perché secondo alcuni inquirenti, proprio la morte di Lima segna l'inizio e la base della famosa trattativa Stato-mafia che sarebbe avvenuta poi nei mesi e negli anni successivi. Ma questa è un'altra complessa pagina che merita di essere esaminata a parte.